Molti atleti o molte persone che stanno a dieta perdono tempo a inseguire o seguire più o meno correttamente programmi sbagliati come un innamorato che segue un partner che non lo corrisponde affatto. Bentornato a Bodybuilding Posse. Quanto impegno mettere in palestra o nella dieta? Ogni volta che mi è capitato di parlare con un americano, un americano che abbia avuto successo nel suo business, ho sempre chiesto ma è vero che lavorando molto in America si riesce a fare qualcosa? La risposta più bella me l'ha data un industriale che mi ha detto non è lavorando molto hard ma è lavorando smart con intelligenza. La stessa cosa vale per la palestra o per la dieta. Non bisogna fare di più ma bisogna fare meglio. Non bisogna mettere un impegno inverosimile, bisogna mettere la testa, la mente. Charles Gibbons disse fare di più di quello che non funziona non lo farà funzionare meglio. È inutile incaponirsi in una scheda sbagliata, in una dieta sbagliata. Certo come fare a sapere che è sbagliato? Con questo test che ti consiglio di fare ogni sera prima di dormire o ogni mattina quando si svegli. Chiediti sempre, meglio ancora, scrivi la risposta. Cosa sto facendo? Cosa funziona? Cosa non funziona? Elimina quello che non funziona e concentra tutto il tuo impegno e le tue energie su quello che funziona.